È molto bello passare due giorni in questa bellissima località di vacanza che è Bormio e prepararsi alle Olimpiadi perché poi queste gare di Coppa del Mondo diventano un antipasto per le nostre Olimpiadi, questa è una grande vetrina, una grande vetrina della Lombardia e dell'Italia. Devo dire che ho trovato una valle organizzata con tante occasioni di divertimento ma non solo di divertimento, dallo sport alla cultura questi sono posti che accolgono le famiglie, accolgono gli sportivi e quindi da tutte le parti d'Europa arrivano per godersi qualche giorno di meritata vacanza. Questa è una vetrina, una vetrina per quelle che saranno le Olimpiadi, un grande momento internazionale al quale Regione Lombardia si sta preparando, si sta preparando con grande intensità non solo sotto il profilo degli investimenti infrastrutturali, tanti gli investimenti che faremo su questa valle ma si sta anche preparando portando questo marchio, il marchio della Lombardia in giro per tutto il mondo.